Gara tra la squadra della Piazzetta rinnovata negli uomini e negli elementi con due innesti dalla Serie D la coppia dei fratelli Tammaro che vince invece la squadra della Piazzetta molto rimaneggiata 4-3 però, adesso proprio Tammaro la tocca per Umberto Tammaro vince un contrasto, la palla per Frenna, in qualche modo la riesce a mettere giù sposta per Davide, Davide ha il mancino libero, l'impallato, Tammaro il dribbling secco, il miracolo di Nitopi grande risposta di Nitopi, grandissimo portiere, davvero molto bravo Santo Paolo ci fa notare della particolarità dei numeri di Maia dei suoi giocatori fallo su Davide, attentissimo il direttore di gara con... perché questi numeri? calcio di punizione la nostra spycam l'andiamo a seguire fino al punto di battuta, gli chiediamo a Nani di attendere Nani, Umberto Tammaro, vediamo chi va andrà Nanesco buono il tiro impallato poi Davide la mette giù ancora Davide fa l'allontanata, fa sano Antonio Tammaro il tiro deviato in calcio d'angolo da Mercogliano ancora la piazzetta in avanti con Davide si fa vedere Nani visto e servito attenzione però regalo per Quaratino Nani controlla protegge il pallone prova anche a ripartire Nani fa sportellate con Quaratino poi Nani intelligente si ferma, allarga ottimamente per Umberto Tammaro ancora Umberto Tammaro ci prova Nitopi con la palla che viene allontanata Antonio Tammaro e poi Kaji parla in via ancora Davide Nitopi straripante il portiere della Dinamo Nani qui fa valere il fisico appoggia per Santo Paolo Davide attenzione 3 contro 2 allarga benissimo per frena l'uscita di Nitopi la mette dentro porta vuota Tammaro ancora miracolo incredibile la piazzetta preme ma non trova la rete ancora Davide fa la messa dentro Umberto Tammaro controlla ma male poi il sombrero di Mercogliano che la mette dentro Beraci a volo incredibile ha giocato solo la piazzetta e di rimessa arriva la rete della Dinamo sulla quale possiamo chiudere il nostro collegamento davvero bella questa azione della Dinamo in contropiede grazie a tutti grazie a tutti